La consulenza indipendente si sta sviluppando, come pensate di intercettare questa domanda? Sì, è una domanda molto importante visto che il 2018 di fatto è l'anno zero per la consulenza finanziaria indipendente. Devo dire che le tre caratteristiche per noi sono fondamentali, saranno fondamentali per una consulenza indipendente, sono la qualità, l'affidabilità, la competenza, che sono in realtà poi una delle caratteristiche, sono il nostro DNA come società, come Tiro Price, che da tanti anni è vicina al mondo retail. Entrando poi nel dettaglio di quando parliamo di consulenza indipendente, Tiro Price è anche una società molto attenta ai costi, che sappiamo essere una tematica molto cara ai consulenti indipendenti. Facendo un esempio molto pratico, noi abbiamo dei costi amministrativi molto contenuti, addirittura il 97% delle costi amministrativi nei nostri fondi sono più basse rispetto alla media di mercato e addirittura mettiamo un cap massimo alle commissioni amministrative. E queste sono alcune caratteristiche per noi fondamentali per essere competitivi anche nel mondo della consulenza indipendente. Siete tra gli estimatori della gestione attiva, in base alla vostra esperienza cosa avete da raccontarci in proposito? Beh direi che è la domanda perfetta da fare a una persona che lavora in Tiro Price. Oggi ho avuto l'occasione, l'onere e l'onore di fare una presentazione legata proprio al mondo della gestione attiva. Abbiamo fatto un intervento che guardava, entrava nel dettaglio di come si può battere l'S&P 500. Abbiamo fatto di fatto un'analisi su 18 strategie azionari americane per capire negli ultimi 20 anni se riuscivamo più o meno a battere il benchmark. Ed è stato un bello studio perché di fatto analizzavamo il tasso di successo attivo e l'extrarrendimento su 20 anni di storie di strategie su 18 strategie azionari americane di Tiro Price. La cosa impressionante è stata per dimostrare che la strategia attiva funziona e può funzionare in player come Tiro Price che il 100% del tasso di successo attivo a 5 anni e a 10 anni era positivo su tutte e 18 le strategie. Questo ha dimostrazione che ci sono società importanti, grandi come Tiro Price, recentemente abbiamo superato quota 1 trillion dollar di asset in gestione che possono produrre valore aggiunto anche in mercati e in indici anche molto efficienti come l'S&P 500.